Amiche di unghie, finalmente è disponibile il nuovo corso acrilico online di video pre-registrati. Uno dei tre video che compone il corso, il più importante, dura otto ore. Ovviamente c'è la spiegazione di come funziona il prodotto acrilico, spiegazioni varie di tipologie di unghie e soprattutto come attaccare le tip e come utilizzare le tip nel modo corretto. E poi c'è lo schema di matura, c'è la pratica sulla mano finta, la pratica sulla mano finta, sulle tip e poi ovviamente anche sulle unghie vere, su mano vera. Quindi facciamo veramente tante cose. Il corso acrilico base comprende anche l'onicofagia. Il video dell'onicofagia dura due ore e un quarto e ovviamente con acrilico si tratta benissimo l'onicofagia. Quindi vedremo come trattare l'onicofagia, come fare refill su onicofagia e vedremo due stati, due livelli di onicofagia in questo video. Dopodiché il terzo video che compone questo corso base è il corso refill. Anche lui dura all'incirca un'ora e un quarto e trattiamo praticamente due mani. Quindi facciamo refill ovviamente con tutte le spiegazioni del caso e tratterò due mani, due mani diverse per farvi vedere delle situazioni diverse. Quindi cari amiche di unghie, il corso base acrilico è praticamente pienissimo di informazioni. Quindi abbiamo il corso dove impariamo a gestire il prodotto eccetera eccetera, il corso onicofagia e il refill con acrilico. Mi potete mandare email, scrivere al numero di whatsapp che vi lascio e mi potete contattare nei vari social da dove mi state guardando. E ricordatevi che c'è una promozione in corso fino al 31 dicembre 2023. Ciao!